Ciao, sono la dottoressa Raffaella Tocci, oggi ti voglio dare un consiglio per combattere la cellulite. Se sei infatti una persona che sta combattendo da tanto tempo contro la cellulite, questo è il video giusto per te. Si tratta dell'infuso di tè verde e pompelmo. Per poter preparare questo infuso è sufficiente munirsi di una tazza di acqua tiepida, un pompelmo e 20 grammi di tè verde. La preparazione dell'infuso è semplicissima, basta prendere un pompelmo, spremerlo, ottenere la maggior quantità di succo possibile, 20 grammi di tè verde e quindi scaldare un po' di acqua all'interno di un pentudino e a questa acqua tiepida aggiungere il tè verde e il pompelmo. La bevanda è molto gustosa e diventa ancora più dolce aggiungendo un cucchiaino di miele. È un rimedio naturale veramente utile per combattere la cellulite. Ricorda sempre però che accanto a questi rimedi bisogna aggiungere per ottenere dei risultati eccellenti un po' di esercizio fisico. Quindi mi raccomando, lo sport o anche le lunghe passeggiate aiutano sicuramente ad ottenere un risultato migliore. Grazie dell'attenzione, Farmacia Leonardo, il tuo benessere ci sta a cuore.